La fortuna quest'anno abita a Roquetas del Mar, un paesino vicino a Almeria, nell'estremo sud della Spagna. E' qui che sono usciti i numeri del Gordo, la grande lotteria natalizia spagnola. Una giocata collettiva che ha vinto 680 milioni di euro. Sì, anch'io ho vinto alla lotteria, siamo molto felici, è stata una grande sorpresa, non ce l'aspettavamo. Io e mia moglie compriamo qualche biglietto ogni anno, ma è la prima volta che vinciamo. Qui siamo tutti gente che lavora, sono molto contento che il primo premio sia stato vinto qui. Quest'anno in Palio c'erano in tutto 2 miliardi e 24 milioni. Puntuale il 22 dicembre, come ogni anno, e il Gordo, il grosso diremmo noi, ha tenuto con il fiato sospeso agli spagnoli. Almeno un biglietto entra in tutte le case. E la trasmissione televisiva in cui un gruppo di scolari salmodi ai numeri che escono a mano a mano, è sempre fra le più seguite dell'anno. La trasmissione televisiva in cui un gruppo di scolari saluto.